Ripensavo a quella scena fantastica del primo Matrix, in cui Neo, subito dopo aver scoperto di essere in una realtà virtuale, attraverso lo spinotto che ci ha attaccato sulla nuca, viene trasportato in questo spazio virtuale dove il buon Morpheus gli insegna un bel po' di cose, tra cui le arti marziali, il Kung Fu. E ho pensato, che cosa vorrei imparare io, se avessi uno spinotto direttamente collegato al cranio che mi potesse far imparare qualsiasi cosa? Di sicuro vorrei imparare tutte le lingue del mondo, sono migliaia e sarebbe interessantissimo. Dopo a suonare uno strumento musicale, o anzi più strumenti, visto che parliamo di fantascienza, perché è una di quelle cose che non ho mai fatto e che vorrei fare da una vita. Poi perché no, imparare qualche sport, qualche arte marziale. E voi che cosa vorreste imparare? Fatemi sapere nei commenti.